Buongiorno, sono le sei e sto andando a vedere se ci sono onde in mare o come il drone ma purtroppo non è come mi aspettavo ha piovuto, non c'è sole il cielo è un po' nuboloso quindi speriamo bene che ci siano nemmeno le onde belle ok ragazzi, zoomiamo indietro sono sul mare, le onde ci sono e sono anche belle peccato per il cielo che non è azzurro ma direi che voliamo grazie a tutti 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 la prima batteria è andata un po' di sciuffo adesso aspetto il momento giusto per ridecollare così non aspetto in volo e recupero un po' risparmio un po' di batteria fino ad ora tutto ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti